Ciao, oggi per il video del giovedì vorrei, anzi vorremmo, condividere una pratica che ci ha fatto fare questo fine settimana il maestro indiano di Max che ha portato a Milano. Si chiama Rana Shishiti e viene da Mysore. Abbiamo fatto una serie di seminari in cui il maestro è intervenuto, ci ha aiutato e ha fatto degli adjustment direttamente su ognuno dei partecipanti che chiedevano un argomento, un'asana piuttosto che un altro. E io ovviamente non mi sono lasciata perdere l'occasione di chiedere un po' di aiuto per cercare di approfondire e lavorare meglio sul mio inarcamento. Allora, lui mi ha fatto, abbia lavorato sull'asana picco e la capotasana e vedendomi lavorare mi ha indicato come area di miglioramento, come zona su cui lavorare, le spalle e la parte alta del torace. Che effettivamente è quello che non riesco ancora a sbloccare, su cui sono arrivata mano a mano lavorando, sono riuscita a lavorare sull'inarcamento, però sono arrivata a un punto in cui mi sentivo un po' bloccata. Allora mi ha fatto vedere un paio di esercizi da fare per riuscire ad accedere a questa parte del mio corpo. Ciao Max. Eccolo qua. Allora, via in giù. Allora, dunque, siccome sono, vabbè, il primo esercizio che mi ha dato da fare, in realtà potrei in teoria farlo anche da sola, però siccome l'ho fatto solo una volta con lui e Max invece conosce bene il modo di lavorare di Ramesh G, perché comunque ha lavorato per due mesi a Mysore in India, ho chiesto di aiutarmi per farvi vedere come lavorare nel video. Il secondo esercizio invece richiede un'altra persona che vi aiuti, per cui... chiesto di aiutarmi. Allora, il primo esercizio richiede l'utilizzo di uno sgabello, non troppo alto, e se avete uno sgabello magari di legna, meglio metterci sopra qualcosa di morbido. Io ho questo qua delica con il cuscinone, per cui userò questo. Allora, ci mettiamo con le gambe come per entrare in Ustrasana o in Kapotasana. Allora, io non mi sono ancora scaldata, però è importante quando si lavora su queste cose, in generale come vi dico sempre, quando lavorate su... nello yoga, è importante scaldare bene il corpo, soprattutto se si lavora su punti sui quali magari abbiamo delle difficoltà particolari. Per cui io adesso non spingerò, vi faccio vedere l'esercizio, ma non andrò in profondità perché non mi sono scaldata. Però voi non fate l'esercizio se non vi siete scaldati, quindi fate un po' di saluti al sole, fate... se avete una pratica che fate abitualmente, fatela in modo da scaldare bene il vostro corpo, altrimenti rischiate di farvi male seriamente. Allora, vado indietro. Ok, adesso fondamentalmente quello su cui dobbiamo lavorare è cercare di aprire bene le spalle, le braccia e il torace, per cui una volta che hai trovato la distanza giusta dallo slabello, che è quella che ti permette di respirare bene, man mano se vuoi poi avvicinarti con il corpo e con i piedi, portarli indietro, avvicinarti allo slabello e aumentare l'allaccamento, però sempre in una proporzione adeguata in modo tale che tu possa respirare bene, perché per aprire il torace è fondamentale proprio respirarci dentro, quindi la respirazione andrà agli apici polmonari e le spalle si apriranno. Dopodiché, quando vuoi aumentare il lavoro dello scioglimento delle spalle e dell'apertura del torace, porti le braccia indietro. In questo caso potreste avere o un altro slabello o un appoggio, se è una persona dietro, una sedia, una persona dietro puoi afferrare le tibie o le caviglie e a questo punto l'azione che ha fatto adesso Silvia di chiudere i gomiti la fa lavorare sullo scioglimento dell'articolazione in scapolo merale, perché naturalmente quando andiamo indietro con le braccia le mani tendono a unirsi, i gomiti tendono ad aprirsi, questo non ci permette di appoggiare bene a terra i palmi delle mani, che è una cosa che abbiamo bisogno di fare in capotasana per spingerci in avanti, perché in capotasana fondamentalmente le anche devono andare idealmente in verticale, in allineamento sulle ginocchia. Più andiamo indietro con le anche e meno abbiamo la possibilità di inarcarci e di camminare, perché proprio andiamo indietro con la testa e con le braccia. Quello che sta facendo lei adesso, siccome si sente più comoda, sente di poter lavorare un pochettino più in profondità, è di spingere appunto in avanti le anche, quindi si è appoggiata, questo lo potete fare anche contro un muro, se avete la slabella e dietro avete una parete potete spingervi e man mano cercare di distendere le braccia, però sempre con un atteggiamento di attesa, in modo tale che la posizione possa essere piacevole, perché altrimenti i muscoli si rigidiscono e si riesce a fare ben poco. E poi la compensazione. La compensazione che deve servire ad aprire e distendere la zona lombare, se avete qualcuno che possa fare questa azione, possa premere un pochettino sopra i glutei sul sacro, vi rende la cosa più veloce e piacevole, altrimenti comunque mettendosi in avanti e compressare. Io in questa posizione per aumentare un pochino l'effetto sullo psoas, immagino di spingere l'ombelico verso la colonna vertebrale, in modo da aiutare. Questo era un esercizio. All'inizio è doloroso, almeno per me è proprio doloroso, però se non si ha fretta e si lavora avendo pazienza e aspettando che il corpo si apre, quindi si apre quella porticina oltre la quale si trova qualcosa di nuovo, il corpo si apre molto più facilmente piuttosto che lavorare attraverso l'aggressione e la violenza per spalancare questa porta sfondandola. Per cui magari è un processo un po' più lungo, però non ci facciamo male e ho visto sul mio corpo che alla fine funziona meglio, perché comunque il corpo si apre in maniera anche più stabile, perché poi rimane aperto. Un altro lavoro invece che possiamo fare sullo sblocco delle spalle è questo. e prendi tu le mani? Piano perché le spalle... Faccio solo da supporto. Sì, ok. A questo punto lei si sta lasciando andare con il peso, parlo io così intanto respira profondamente e quando se la sente può stendere i gomiti e lasciare cadere proprio la testa, le spalle, il torace in basso. Questo fa un'azione di apertura importante sull'articolazione delle spalle perché proprio lasciamo andare il peso del corpo e qua stiamo usando solo le dita delle mani che si aggrappano, ma in realtà la potrei anche solo tenere io. Però diciamo che ha un minimo di azione attiva da parte della persona che ricevelo giustamente sempre meglio tenerla in modo tale da non essere proprio tirati, da non essere solo un manichino, ma fare un'azione anche sul proprio corpo. Dà un pochettino più di controllo anche sul lavoro e sui suoi limiti. che chi tira dall'altra parte non è che possa avere così tanta sensibilità come la persona che lo riceve. Qua eventualmente se la persona che riceve lo giustamente ci segnala che possiamo spostarci indietro, facciamo dei piccolissimi passi indietro con i piedi e solleviamo come sto facendo adesso, lo sto accennando appunto il movimento, però man mano si può, sento che lei si sta tirando su da sola, per cui ce la lavoro un po' io. Questo sta lavorando di più sull'inarcamento, sulla capacità contrattile dei multifidus, dei muscoli al lato della colonna vertebrale. Se lei vuole lavorare ancora sulle spalle, lascia cadere il peso del corpo in basso. Sì, quello che sto cercando di fare è quello di lavorare sull'inarcamento spingendo con l'osso pubblico verso il pavimento, quindi attivando un po' le gambe e quando poi riesco a salire, lascia andare il peso. Quindi il punto di inarcamento si alza e quando lascia andare il peso lui è già su per cui le spalle si aprono un po' di più perché lui non torna giù con me, mi mantiene nella posizione, per cui ho ancora un accesso un pochino più in profondità nelle spalle e quindi riesco ad andare un pochino avanti. Quindi vale lo stesso discorso di prima. Penso un attimo. Questo è bellissimo per compensare proprio una roba che ti riporta a posto. Ok, l'ultimo. I gomiti. I gomiti. Ci sdraiamo di nuovo come abbiamo fatto prima al principio, grosso modo è lo stesso di prima, giusto? Sì. Solo che invece di stendere le braccia pieghiamo i gomiti, portiamo le mani indietro, uniamo i palmi. E qua noi dobbiamo appoggiare le mani a cucchiaio sotto i gomiti, non vicino alle spalle perché se no si tira la pelle da fastidio. Se lo mettiamo qua sui gomiti, piano piano, piano piano alziamo e portiamo indietro. Possiamo anche appoggiare adesso in questo momento appoggiati i gomiti sulle mie ginocchia quindi praticamente potrei stare qua anche fino a Natale perché faccio nessuna partita. Il lavoro a questo punto lo fa lei quando poi abbassa la testa, lascia andare giù il peso e quindi apre l'articolazione delle spalle. Posso piano piano come sto facendo dolcemente raggiungere un limite. Facciamocelo dire dalla persona direttamente. Se sono arrivato al limite in questo momento, non lo so, però ovviamente ci sarebbe ancora dello spazio, però immaginiamo di essere arrivato al limite. Vado giù, espiriamo, inspirando, solleviamo. Espiro, giù con la testa, inspiro, rimango giù con la testa e salgo con la schiena. Espiro, inspiro, e il mio atteggiamento in questa posizione è un atteggiamento in, di abbandono. Il lavoro lo sta facendo tutto lui. Io cerco di usare il peso della testa abbandonati in avanti per lasciare che si aprano le spalle, il torace e cerco di lasciare andare i muscoli in modo che non si mettano di traverso e non lavorino al contrario, quindi bloccando quello che sta facendo lui, tirandone su e giù. e poi pensiamo qua. Ok, quindi mi raccomando, prima scaldatevi, non andate oltre il limite, questo tipo di lavoro è utile anche per imparare un po' a lavorare sul proprio limite, ad accettarlo e a confrontarvi quotidianamente, un po' alla volta. Quante volte fare questa pratica se una persona vuole lavorare in maniera costante su queste aperture? Se lo fa due o tre volte è più che sufficiente, andare oltre vuol dire cercare di tirare più, invece ha più senso magari farlo per tre o quattro giorni in seguito e poi riposarsi un po'. E anche il riposo è importante perché il corpo ha bisogno di tempo per ripararsi, per diciamo risettarsi sul nuovo equilibrio, perché ogni volta che apriamo una parte del nostro corpo e non essendo una parte isolata ma essendo il corpo un tutt'uno, tutto il resto ha bisogno di riequilibrarsi rispetto alle nuove aperture, per cui uno o due giorni di riposo dopo una pratica di tre o quattro giorni è importante per poter recuperare. E sarà sorprendente poi riprendere e vedere come il lavoro fatto renda ancora di più dopo magari uno o due giorni di riposo, piuttosto che spingere, 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 perché il corpo è sempre, si trova sempre a dover rincorrere i nuovi equilibri, per cui anche il riposo è importante. Per il video del giovedì è tutto, ci vediamo settimana prossima, ciao!